23 giugno, ariete. Il vostro temperamento battagliero vi porta ad infiammarvi alla minima sollecitazione, pronti a tener testa a qualsiasi situazione. Una buona dote che determina un destino non passivo ma passionale, alla ricerca di stimoli e orizzonti che non vi conducano alla noia. Toro, le faccende amorose e sentimentali rimangono per il momento un po' in ombra, ma luna e sole armonici promettono sintonia nel vostro modo di percepire i fatti quotidiani, tale da rendervi sereni nonostante le difficoltà. Coltivate la bellezza interiore, arma vincente a priori. Gemelli, qualche parola di troppo potrebbe mettere in crisi un rapporto oppure produrre effetti poco gradevoli nell'ambiente che frequentate. Frenate l'impulso a sfogare in modo pungente le vostre frustrazioni, adoperate la capacità oratoria per fini piacevoli. Cancro, una ventata di positività nella vita, offerta da buone configurazioni astrali, permette alla vostra natura un po' impressionabile di stabilire dei punti fermi sui quali poter costruire programmi a medio termine. Approfittate per ridimensionare situazioni che parevano irreparabili. Leone, una relazione instabile o un incontro inaspettato potrebbe trasformarsi in un evento amoroso di grande portata. La configurazione astrale propone massima fortuna, quindi starà a voi stessi saper cogliere le opportunità e operare le scelte giuste. Vergine, una spinta vitale vi farà approfondire il gusto di frequentare amici e rinnovare quei rapporti che si sono un po' spenti. La sintonia con il prossimo che avvertirete vi orienterà verso esperienze umane ed affettive che ammorbidiranno la vostra forte cerebralità. Bilancia, nella cerchia delle vostre conoscenze ed amicizie emergerà una persona che sarà una guida per voi, una sorta di guru che vi proporrà nuovi punti di vista sui temi esistenziali. Potrebbe anche nascere un forte sentimento che lascerà un sedio nella vostra vita. Scorpione, lasciatevi trascinare dall'istinto positivo che nascerà in voi, dettato da un buon equilibrio sole-luna che regalerà un modo piacevole di proporvi agli altri. La passionalità che vi contraddistingue sarà amplificata e indirizzata verso concetti e realizzazioni di ottimo livello. Sagittario, emozioni contraddittorie e un po' confuse potranno accavallarsi e portare ad atteggiamenti poco pratici e poco razionali. Il consiglio è di concentrare le energie sul settore affettivo e sentimentale, sulla rivisitazione interiore delle proprie credenze e consapevolezze. Capricorno, una luna in posizione armonica con Plutone in transito nel vostro segno, potrebbe sollecitare stati d'animo intensi e profondi che arrivano nell'intimo a produrre effetti benefici sulla vostra forza psicologica. Grande passionalità in amore. Acquario, state attraversando un periodo nel quale potreste avvertire l'esigenza di ripulire il vostro io interiore di tutte quelle impurità che vi rendono difficile il vivere serenamente. Sarà un lavoro lento ma purificatore e rigenerante che offrirà nuove prospettive in ogni settore di vita. Pesci, una luna ancora molto confusa caratterizzerà questa giornata nella quale farete un po' di fatica a concludere le iniziative. Il sole, inteso come forza vitale, è entrato in aspetto eccellente al vostro segno e promette recupero fisico e novità positive. Buone stelle!